e noi diamo il ben tornato nostro viaggio mannino ciao viaggio buongiorno buongiorno graziano buongiorno come va come stai come è passato questo weekend hai la domanda di riserva comunque va beh ci stiamo avvicinando al natale siamo tutti più buoni le notizie sono più belle vero? ma sicuramente sì grazie a me inizieremo la settimana con qualcosa di leggero dai ecco innanzitutto cominciamo con questi due personaggi particolarmente diversi che sono Putin e Biden che ne dici di cominciare a parlare perché entrambi saranno impegnati in campagne elettorali e quindi come si stanno secondo te organizzando e quali sono le differenze insomma una sorta di parallelismo vediamo fra Putin e Biden in in questo senso beh sia Putin che Biden sì il 2024 rappresenterà l'anno della corsa elettorale per essere riconfermati o meno presidenti eh l'appuntamento per Putin è molto vicino il diciassette di marzo mentre per Biden bisognerà aspettare il mese di novembre il secondo martedì del mese di novembre strade completamente differenti però nell'ambito della difficoltà perché per Putin ormai il raggiungimento del quinto mandato sembra una cosa facilissima e certa per Biden invece difficilissima ed incerta quindi due questioni completamente differenti ovviamente al centro della questione della questione elettorale c'è l'elemento ucraina perché entrambi faranno uso dell'Ucraina nell'ambito della loro campagna elettorale questo in dubbio ma solamente in modo completamente differente perché lo dicono anche gli stessi sondaggi Biden sta precipitando nei consensi dei sondaggi negli Stati Uniti mentre Putin diventa sempre più forte ormai radicata l'idea che anche nella stampa occidentale che Putin sia effettivamente gradito dal popolo russo così lo dicono i sondaggi sia quelli tra virgolette più degli istituti sondaggistici più vicini alla figura di Putin ma anche quelli che sono maggiormente indipendenti come a dire che in Russia il popolo russo vuole Putin un discorso ovviamente particolarmente importante che si lega anche alla stessa vicenda dell'Ucraina come detta perché come detto perché poi in definitiva Putin premerà molto sul discorso ucraina per quanto riguarda un senso di patriottismo infatti è arrivata da parte del partito che lui aveva contribuito a fondare Russia unita il pieno appoggio nei confronti della figura di Putin in questa campagna elettorale un consenso da parte della politica russa e trasversale che vede in Putin il punto di riferimento in questo momento particolarmente difficile e Putin insiste su questo discorso proprio la difficoltà e l'idea di porre la Russia come uno stato che di fatto si trova ad essere colpito da tutte le parti in una sorta di pianificazione tant'è vero che Putin parla di un progetto di un progetto che negli anni 90 c'era da parte del mondo occidentale dopo la dissoluzione dell'unione sovietica di andare anche a dividere la stessa la stessa Russia addirittura in cinque parti e queste cinque parti sarebbero poi state successivamente sfruttate da parte del mondo occidentale per quanto riguardava le risorse insomma va a creare nei russi quel sentimento di paura nei confronti dell'esterno come se appunto la Russia fosse al centro delle attenzioni per essere poi di fatto attaccata un discorso che ovviamente diventa importante proprio nel contesto russo dove il senso di patriotismo è estremamente forte e nei momenti di difficoltà il popolo russo lo ha dimostrato e ce lo ha ben ricordato la storia si unisce intorno al proprio leader intorno al proprio capo e va avanti finché l'obiettivo non è raggiunto lo dimostrano i 20 milioni di morti durante la seconda guerra mondiale e che sono la testimonianza di come il popolo russo poi di fatto nei momenti di grande difficoltà sia compatto verso l'obiettivo e soprattutto verso gli indirizzi che il leader dà Biden porta l'Ucraina ovviamente al centro dell'attenzione ma rovescia la situazione ovvero spaventa mentre Putin parla in modo particolarmente importante come detto di elementi patriottici e beneficia anche della situazione che in questo momento ha di un forte consenso nell'interno della Russia Biden si trova nella situazione opposta ovvero sta precipitando nei sondaggi non piace più neppure all'elettorato del partito democratico allora li rivendicare quanto fatto diventa alquanto difficile non più come fa Putin guardare al passato per puntare al futuro ma Biden mette da parte esattamente il passato e guarda soltanto al futuro in un modo anche particolarmente delicato perché tende a portare la paura e qual è questa paura? la paura della guerra proprio di quella guerra in Ucraina che lo stesso Biden non è riuscito a evitare anzi diciamolo proprio ha contribuito a far sì che potesse incominciare di fatto Biden dice che la Russia attaccherà una volta conquistata l'Ucraina un paese della Nato e già qua su queste parole ci muoviamo nell'interpretazione perché se la Russia attaccherà una volta conquistata l'Ucraina significa che le cose in Ucraina tanto bene non stanno assolutamente andando non solo Biden dice che nel momento in cui l'Ucraina attaccherà un paese della Nato gli Stati Uniti dovranno intervenire in modo diretto implica che i soldati americani ed ecco qua l'immagine dei giovani americani dei militari riportando alla memoria sì il passato pensando al Vietnam e a quello che era accaduto in quegli anni si troveranno impegnati nelle guerre ecco perché Biden concentra l'attenzione su un problema cercando di diventare il presidente di guerra nel quale gli americani devono identificarsi proprio per evitare che il nemico tradizionale russo che spunta nelle diverse occasioni anche utile proprio per gli aspetti legati ad altre questioni nelle strategie geopolitiche americane ebbene Biden vuole trasformarsi nel presidente di guerra assolutamente necessario le questioni sono particolarmente delicate perché Putin utilizza la sua comunicazione politica il patriotismo e contemporaneamente ottiene risultati perché ormai da numerosissime fonti sia russe che ucraine sono giunte le notizie che i famosi missili ipersonici russi hanno colpito gli obiettivi in particolare vicino a Kiev andando a colpire anche quei sistemi di difesa missilistica forniti dagli Stati Uniti i famosi Patriot che in questo caso nei confronti dei missili ipersonici russi non hanno funzionato un discorso che si lega anche alla velocità degli stessi missili perché i Patriot riescono a individuare missili che viaggiano a velocità fino a 9.000 km all'ora riescono a colpirli quando questi rallentano ai 5.700 km all'ora ma i missili ipersonici viaggiano a 14.000 km all'ora e colpiscono gli obiettivi a 10.000 km all'ora e da qui il problema il problema è che il sistema Patriot non funziona e tant'è che lo stesso Zelensky è stato portato via da Kiev si è raggiunto un momento di allarme tale che è stato ritenuto opportuno trasferirlo altrove insomma un momento un momento delicato per quanto riguarda l'Ucraina l'impressione anche portata dalla realtà delle situazioni è che la Russia ormai stia avanzando e stia conseguendo il posizionamento nel contesto dell'Ucraina e lo stesso Putin dice risponde a Biden dicendo che non è assolutamente intenzione della Russia andare avanti per un discorso legato ad attacchi ad altri paesi nati gli obiettivi della Russia sono quelli ovviamente di consolidare le proprie posizioni di difesa nel contesto dell'Ucraina ma altrettanto vero dice Putin è che la Russia non si fermerà fino a quando non raggiungerà i propri obiettivi ecco in tutto questo Trump sta a guardare sta lavorando come pare per un nuovo mandato ne abbiamo parlato anche questa mattina qual è la situazione Biagio? beh Trump ormai si prepara 15 gennaio Graziano prendi l'agenda segnati subito questa data il 15 gennaio inizia tutto il meccanismo delle elezioni primarie per quanto riguarda il partito repubblicano i primi cocos nell'Iowa che stabiliranno da subito diciamo la verità da subito chi sarà il candidato alle elezioni presidenziali perché Trump in questo momento nei sondaggi beneficia di un 61% di consensi nelle elezioni primarie è il secondo classificato diciamo così nei sondaggi Ron De Santis con il 12% di consensi nelle elezioni primarie su base nazionale come dire non c'è assolutamente storia ma è altrettanto vero dobbiamo sottolinearlo che Donald Trump nonostante nell'ambito del partito repubblicano continui ad avere questo enorme consenso da parte degli elettori repubblicani non ha alcun consenso da parte della politica del partito repubblicano tant'è vero che i famosi Trumpiani sono diventati una componente scomoda nel contesto del partito repubblicano e soprattutto su Trump c'è quell'elemento particolarmente complicato che può essere utile in ambito elettorale così come può essere un grande problema ovvero le quattro incriminazioni che Trump si trova ad avere non ci sono come dire la legge statunitense è a quanto particolare perché addirittura Trump potrebbe essere eletto con processi in corso potrebbe essere eletto anche con condanne nel contesto degli Stati Uniti a presidente ma poi la questione diventerebbe particolarmente complicata ed ecco perché in realtà le elezioni primarie del partito repubblicano saranno interessanti non tanto per il primo classificato che ormai è scontato sarà Donald Trump quanto per il secondo classificato perché nel caso in cui qualcosa dovesse succedere ebbene tutto questo potrebbe portare a delle sorprese ma le sorprese di candidati alternativi a Trump per un elettorato potrebbero anche qua in questo caso mostrarsi perché non è detto che l'elettorato che vede in Trump una figura di così ampio riferimento poi possa accettare l'ipotesi di un secondo candidato che diventa tale anche per queste diciamo legami queste problematiche che si vedranno nel corso del 2024 insomma da un lato Biden che farà di tutto nell'ambito soprattutto della politica estera per cercare di attirare le attenzioni di sé per quanto riguarda l'elettorato e dall'altra parte Trump che farà di tutto per utilizzare proprio le incriminazioni per porre intorno a sé il centro dell'attenzione Abbiamo solo due minuti possiamo accennare qualcosa sul rapporto Russia-India? Possiamo accennare qualcosa lo riprenderemo magari domani Graziano perché la cosa è particolarmente complessa ma è altrettanto vero che il mondo ormai è grande da una parte ed è piccolissimo dall'altra perché dobbiamo immaginare questi giochi nell'ambito della geopolitica internazionale sempre più articolati e sempre più anche portati nella totale incomprensione perché poi realtà che da una parte sembrano alleate dall'altra parte invece si disallineano basti pensare che Russia e India sono sì estremamente vicine ma fino a poco tempo fa quando Biden vinceva nel 2020 le elezioni e Kamala Harris diventava vicepresidente ebbene lì si pensava degli Stati Uniti e all'India come una realtà molto vicina gli Stati Uniti puntano molto a creare delle alleanze nei confronti di un'India che invece sempre più vicina alla Russia ma all'interno dei BRICS molto lontana dalla Cina quindi in sostanza la situazione è caotica la riprenderemo perché il tempo ormai si è quasi concluso però voglio sottolineare un aspetto oggi assistiamo alla stessa identica situazione alla quale avremmo potuto assistere se fossimo stati presenti negli anni precedenti al 1914 un sistema di alleanze e contemporaneamente inimicizie tra i paesi in quel caso dell'Europa oggi del mondo che era estremamente articolato andando a mostrare come poi in definitiva tutti stavano con tutti e tutti erano da soli questo è un po' inquietante chiudere così perché insomma quasi la storia che si ripete in qualche maniera ma proprio perché la storia si ripete dovrebbe essere come dire si dice no la storia maestra di vita eppure non c'è niente da fare non è così non è così grazie Biaggio noi naturalmente ti diamo appuntamento a domani come al solito alla stessa ora grazie a te ciao Graziano grazie a te grazie a te